Sicuramente l'Irlanda domani è la favorita, venire qui in Irlanda è sempre una trasferta estremamente difficile, però siamo molto motivati perché abbiamo visto che contro la seconda migliore squadra al mondo siamo stati capaci di segnare due, quasi tre mete e quindi segnare di più che in tre test match a novembre quindi abbiamo iniziato un 6 nazioni segnando più punti, tenendo più il possesso e comunque facendo vedere una volontà di gioco interessante. Sicuramente domani sappiamo che l'Irlanda è una squadra a cui piace tenere il possesso del pallone, lo dimostra sicuramente i 250 pass a placaggi che hanno fatto i francesi la settimana scorsa, ma ci siamo preparati in questo senso non solo per difendere ma soprattutto anche per utilizzare il nostro attacco come si dice spesso, come la migliore difesa. Possiamo ripeterci, non stancarci che l'Irlanda è forte, che qui è dura eccetera eccetera, ma come al solito per me è tempo perso e sono cose ormai scontate che sappiamo, quindi è importante anche essere ambiziosi, con questo non vuol dire essere né presuntuosi né mancare di umiltà e tanto meno di rispetto alla squadra irlandese, ma essere anche convinti delle nostre forze e convinti che siamo anche in grado noi di mettere domani in difficoltà l'Irlanda. I primi 20 minuti sarà per noi fondamentale, iniziare bene, cioè non concedere mete, non concedere punti facili ed essere lì a contatto sempre nel punteggio con l'Irlanda, ed essere capaci di lavorare e lottare di più a contatto, soprattutto nella fase di placcaggio perché effettivamente quelle volte che l'abbiamo fatto con l'Inghilterra, rallentando i palloni siamo stati capaci di avere due turnover e di essere bene in difesa. Nei momenti in cui abbiamo subito l'impatto, ma soprattutto non abbiamo lottato a contatto, quindi di conseguenza non abbiamo rallentato il pallone, abbiamo dato l'Inghilterra delle palle veloci per attaccare, è sicuramente molto difficile, quindi questi due punti secondo me sono fondamentali, quindi come ti dicevo l'inizio della partita e il lavoro a contatto che faremo ogni volta che l'Irlanda avrà la palla. Grazie a tutti.